Io vi parlo dei talenti che devono ancora emergere, nel senso che tutti noi uomini di azienda abbiamo l'abitudine di parlare dei talenti che devono entrare nelle aziende, che dobbiamo attrarre, che dobbiamo trattenere, che dobbiamo allevare, con cui dobbiamo condividere il futuro delle nostre imprese. Io voglio parlarvi dei talenti che sono ancora fuori dall'azienda, che non sono emersi ma che sappiamo che ci sono. Noi abbiamo un grande problema, abbiamo il problema di questi 3 milioni di talenti che sono fuori dal mondo del lavoro, che sono i NET, se vogliamo pronunciarlo meglio, che è una sigla ormai nota a molti, che vuol dire che sono 3 milioni di giovani che non lavorano, non studiano, non sono in formazione, non fanno niente. Sono giovani dai 15 ai 34 anni, adottiamo le statistiche prodotte dal Ministero del Lavoro, e un quarto dei giovani che sono in questo raggio di età appartengono appunto ai NET, esattamente il 23%, un numero enorme, una situazione davvero disastrosa. È un fenomeno italiano, è un fenomeno europeo, ma è un fenomeno particolarmente italiano, che si registra qui da noi, dove c'è il numero più grande. In Europa la media europea dei NET è intorno al 13%, l'Olanda è il paese più virtuoso il 5%, l'Italia insieme alla Romania è il paese che sta in fondo alla classifica con il 23% di giovani che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Il tasso di occupazione in Italia è del 60%, era del 59% leggermente aumentato negli ultimi mesi. Il tasso medio europeo è del 70%. Ma andiamo un po' più in profondità su questi dati per conoscerli meglio. Dei 3 milioni disoccupati, sappiamo, ce lo dice il Ministero del Lavoro in base alle indagini che conduce sul territorio, attraverso le regioni e i centri per l'impiego, un milione di questi giovani sta cercando un lavoro. E qui potremmo chiederci perché sta cercando un lavoro ma non lo trova, quando tutti sappiamo che abbiamo bisogno di lavoratori. Ma il dato certo è che 2 milioni di questi giovani non cercano il lavoro, cioè non hanno nessun interesse a ritornare il lavoro, perché hanno trovato una loro stabilità nel non avere impegni all'interno di una comunità. Allora, com'è stato possibile? Mi domando e vi domando, e ve lo consegno alla vostra riflessione, una situazione di questo genere in cui siamo il fanalino di COD in Europa sull'occupazione giovanile dai 15 ai 34 anni. Com'è stato possibile? Dove sono le responsabilità? E dobbiamo dircelo, sono nei genitori che molto spesso hanno tollerato che i figli potessero stare a casa senza far nulla e che quasi in qualche modo per registrare il loro successo di reddito hanno detto stai a casa che un piatto di minestra per te ci sarà sempre, condannando in questo modo il figlio ad una inattività veramente pericolosa. Le responsabilità stanno nel mondo della scuola dove c'è un abbandono scolastico, anche qua con numeri che sono tra i primi in Europa, e non sempre, anzi quasi mai, la scuola tenta di andare ad un recupero di questi studenti che lasciano la scuola e che non vengono ormai nemmeno più censiti. C'è un sistema pubblico inefficiente, un sistema pubblico inefficiente che non è in grado, in forma giovani dei comuni o con i centri per l'impiego, di dare delle risposte non burocratiche a chi per caso si affaccia nei loro uffici. E c'è in generale una cultura nostra, di tutto il nostro paese, che non condanna a sufficienza l'inattività e anzi che in qualche caso l'incoraggia o non la vede come un fenomeno così negativo. Bene, dobbiamo lavorare tutti insieme per rovesciare queste impostazioni, perché un giovane deve entrare subito nel mondo del lavoro quando finisce la scuola. Nei primi anni della Youth Guarancy Europea, dove pochi giovani allora trovarono lavoro con la Youth Guarancy, ma le statistiche ci hanno spiegato dopo che il 70% di loro ha trovato lavoro da solo, perché era passato attraverso in un'azienda. E quindi rafforziamo questi strumenti, puniamo gli abusi, ma utilizziamo al massimo per ottenere questi risultati. Poi dobbiamo rafforzare la prevenzione pubblica, quindi tutto ciò che il pubblico può fare. Dobbiamo copiare le buone pratiche in Europa, che sono facilmente assimilabili, ma dove deve esserci la volontà politica, la volontà sindacale, la volontà dei genitori di prendere queste pratiche e di portarle in Italia, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Francia, dalla Germania. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Autoimprenditorialità significa che io ti posso aiutare, ti devo aiutare, non solo per fare la startup tecnologica, che ovviamente è importantissima e su cui ci sono copiosissimi finanziamenti, ma ti posso anche aiutare a fare la startup più semplice, quella artigianale, dove si può creare lavoro per duclei di due, tre, quattro giovani e di cui la società ha bisogno. E quindi come rintracciamo queste persone? Li rintracciamo attraverso le famiglie, convincendo i genitori, i loro amici che così non possono andare avanti. Bisogna che si muovano gli insegnanti per andare ai recuperi di cui abbiamo parlato, che sono fondamentali, perché abbiamo ancora un tasso scolastico, come sapete, rispetto all'Europa molto basso. E poi, una volta trovati i net, che cosa facciamo? Anche qui abbiamo una straordinaria novità, il Goal, la garanzia occupabilità dei lavoratori. Un grande finanziamento europeo di 5 miliardi da spendere nei prossimi tre anni, mezzo miliardo è già stato impiegato per le assunzioni e il rafforzamento dei centri per l'impiego, ma rimangono 4 miliardi e mezzo, che è una cifra che non è mai stata utilizzata in Italia sulle politiche attive. Quindi sono uno strumento formidabile, sia per fare tutta l'attività preparatoria di profilazione e di accompagnamento, ma sia soprattutto per fare formazione, per dare delle risposte precise a dei desideri legittimi di una parte di questi lavoratori. Quindi abbiamo questa grande opportunità per i prossimi tre anni, ma la sapremo utilizzare se ci sarà un impegno di tutta la società su questo fronte. Perché i talenti ci sono anche in questi 3 milioni di ragazzi che sono ancora fuori. È un obiettivo strategico per l'Italia, deve diventare un obiettivo strategico per l'Italia, per tutti. Purtroppo non basta una legge, magari bastasse una legge, un decreto legge, un disegno di legge, qualsiasi cosa, no. Ci vuole convinzione, ci vuole una grande forza e ci vuole una grande generosità da parte di tutti. Grazie.